Grazie a tutti. 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 Ah no, io sono una vittima della Sibilla, come il guerri meschino. Tu sei di Ancona o sbaglio? Io sono di Ancona, quindi una città molto diversa. Si parla di un porto, di una città di mare. Per me è stata una scelta drastica di vita perché io ho chiuso veramente un capitolo e ne ho cominciato un altro. E che capitolo? Perché Stefano, tuo marito, penso che ti ha fatto e ti stia facendo amare tantissimo il territorio Arquata del Tronto perché Stefano, che è il tuo compagno, ha deciso di non abbandonare Arquata del Tronto, ma ha deciso di lavorare per Arquata del Tronto, per il tanto amore. E' vero? E' diventato disastroso. Si parla di 500 abitanti di cui il 70% sono persone anziane e non esiste più neanche il ritorno delle seconde case che era tipico di questi paesi che avevano già stupito. Certo, perché le seconde case non ci sono più, non c'è più niente. Com'è Arquata del Tronto oggi? Elena? Ad oggi, se non sbaglio, ci sono tre, parla quattro case in ricostruzione. Non finite, non terminate. Poco, cioè praticamente è ancora un paese che non esiste più e stanno tirando su tre, quattro case. Esatto. E' veramente sconcertante. L'abbiamo visto un po' la ricostruzione che va a rilento, i commissari che sono cambiati, eccetera, eccetera. Però voi volete ridare un volto diverso, un'immagine diversa ad Arquata del Tronto e ai Monti Sibillini? Perché prima sui Monti Sibillini, sul Monte Vettore, si sciava, è vero? Ah, come no? Si sciava, si facevano ciaspolate meravigliose, si fanno anche ora. C'era sicuramente già un'idea di sviluppo di turismo in embrione, non si parlava ancora di turismo esperenziale, non si parlava di turismo lento, sono termini relativamente nuovi, ma che si addicono tantissimo al tipo di territorio, soprattutto al nuovo tipo di turismo. Noi stiamo assistendo a un'evoluzione del turista, cioè i turisti ora sono molto più consapevoli, molto più attratti dalla cultura locale, vogliono conoscere, vogliono incontrare, vogliono ad esempio acquistare il prodotto direttamente dal produttore e conosce la sua storia. Noi puntiamo soprattutto su questo. Allora, voi siete un gruppo di persone, avete cominciato tu e Stefano, Elena e Stefano sono quelli che sono partiti e poi si sono aggregate altre persone in tutto, quanti siete nell'associazione? Sei se non sbaglio? No, siamo ormai diventati almeno 12 diciamo. Oh che bello, ho guardato sul sito e invece poi sono aumentate le persone, mi ha molto piacere perché hanno sposato questa causa che è una casa importante veramente di riqualificazione del territorio che avete visto dalle immagini, è un territorio meraviglioso. Voi avete gestito il rifugio mezzi litri ed è a 1360 metri di altezza e da lì è partito tutto? Sì, dalla fortuna di aver trovato questo casale completamente agibile e dall'opportunità che ci è stata data di affittarlo e quindi avendo un posto con delle mura e un tetto che non è poco in quel territorio siamo riusciti finalmente a rilanciare gran parte del turismo montano, del versante ascolano. Ho visto le immagini sul sito, sulle pagine Facebook, sui social network, se volete andate a vedere, se pensate alla prossima estate, è vero che c'è il Covid, che non possiamo viaggiare, non possiamo uscire dai confini adesso, però noi siamo speranzosi, vogliamo tornare a vivere e quest'anno, andiamo di là, la montagna, nella scorsa estate ha avuto un gran successo, è vero Elena? Che tantissime persone hanno scelto la vacanza in montagna proprio per gli spazi aperti, per la vegetazione, per la possibilità di essere un po' più isolati rispetto ad altre tipologie di vacanze? Sì, 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 era già un buon andamento pre-Covid, col Covid si è un po' maturato questo tipo di turismo, noi tra l'altro offriamo anche la possibilità di bivacco, abbiamo anche tende nostre che mettiamo a disposizione, abbiamo un progetto di inclusività in corso... Ecco, di quello voglio parlare Elena, perché voi avete una visione ben precisa della montagna, la montagna per tutto, innanzitutto rispettare la montagna, i tempi della montagna, quello che la montagna rappresenta e volete che la montagna sia per tutti, anche per chi ha delle disabilità. E state lavorando per questo? Sì, assolutamente, perché chi passa attraverso tantissime barriere come quelle che implicano il cercare di ricostruirsi una vita dopo un terremoto non può non immedesimarsi in chi combatte tutta la vita contro queste barriere fisiche è ben più gravi e inamovibili. Noi crediamo che la montagna come la salute sia un diritto. Non so quanto riusciremo ad abbattere sostanzialmente tutte le barriere, ma noi nel nostro piccolo ci proviamo e cerchiamo anche di mandare un messaggio alla ricostruzione, che la ricostruzione sia inclusiva. Ma avete dato vita a una raccolta fondi, io sbaglio Elena, proprio per portare avanti il vostro progetto di montagna per tutti? Sì, siamo stati selezionati dal progetto Alleva la Speranza, che è lanciato da Lega Ambiente e Nell'Energia, che ormai da tre anni sostiene le realtà in cui si crede di più per lo sviluppo delle aree interne colpite dal sisma. Quindi siamo molto orgogliosi di far parte di questa rosa di persone scelte. L'obiettivo di questa raccolta fondi è proprio quella di costruire una pedana nell'area esterna del nostro rifugio che permetta una passeggiata agibile, anche con cartellonistica in braille, e delle tensostrutture che permettano un piano terra che noi non abbiamo. Quindi un piano terra ad ampia accessibilità che poi si va ad aggiungere a dei presidi che già noi abbiamo fatto gli scorsi anni, come il bagno con doccia e altre possibilità di accessibilità. Ma è davvero una montagna per tutti. Vediamo delle immagini dei Monti Sibillini, del rifugio, ce ne abbiamo tante di immagini, perché così Elena ci racconti un po' questo territorio, le caratteristiche, cosa si mangia. Ce lo descrivi? Portaci dalle tue parti. Sì, assolutamente. Questo è bravissimo Stefano, che è guida di media montagna ed è grazie a lui veramente che mi sono innamorata e che le persone che passano rifugio si innamorano. Lui è una guida di montagna, giusto? Di media montagna, sì. Di media montagna. Tu sei una rifugista. Tu ti occupi di rifugio, lui fa fare le passeggiate, le escursioni ai viaggiatori. Sì, e soprattutto ha la capacità di trasmettere veramente la bellezza di questi luoghi. Io ne sono incantata perché nell'arco di pochissimi chilometri si ha la possibilità di viaggiare all'interno di paesaggi che passano da quelli dolomitici a quelli tibetani, come pensiamo a Castelluccio con queste colline pazzesche, questa pianura incredibile che non va goduta soltanto con la fioritura ma che è meravigliosa in tutte le parti dell'anno. Siamo a Crocevia tra due parchi meravigliosi, quello della Laga e quello dei Monti Sibillini. Praticamente a pochissimi chilometri noi possiamo abbracciare delle montagne completamente diverse, anche come possibilità di escursionismo. Dai più della più semplice per chi non ha mai camminato a chi invece magari vuole affrontare una parete o lo scialpino. Questo è il territorio, veramente da scoprire, perché quando pensiamo alle marche, alla montagna, pensiamo alla montagna che sta soffrendo, sofferente per via del terremoto, è vero che c'è la ricostruzione, che tutto deve ancora essere fatto, però la montagna è montagna, quindi possiamo riqualificare il territorio, possiamo viverlo nel migliore dei modi. State cercando di sostenere e sostentare i produttori locali. Ci sono ancora produttori locali? Anche se sono pochi, Elena? Sì, sono pochissimi e soffrono tantissimo del spopolamento e della mancanza delle seconde case. Che produttori sono, Elena? Allora, noi abbiamo dei produttori giovanissimi, tra l'altro, di cereali e legumi, che stanno facendo un lavoro straordinario, veramente straordinario. In pochi anni hanno rilanciato molto il loro marchio, che tra l'altro è anche un marchio biologico, e quindi noi ci teniamo tantissimo al loro tipo di lavoro, perché è di una qualità altissima. Oltre loro abbiamo... Poi dopo nella nostra pagina trovate comunque tutti i riferimenti, e anche nel nostro sito. Abbiamo una macelleria, un'allevatore, un'altra famiglia di allevatori e un'ortofrutta. Non sono tanti, capiamo che sono veramente una manciata di persone, che però riescono a coprire, ad esempio, tutto il nostro fabbisogno di rifugio. Quindi dobbiamo... È l'associazione che nasce proprio per questo, per la riqualificazione del territorio, per vivere la montagna, per far conoscere le marche e anche sostenere i produttori locali. Elena, tu hai fatto una scelta drastica nella tua vita. Quattro anni fa hai lasciato Ancona, il mare, una vita diversa, una dimensione sicuramente diversa, più grande, per trasferirti ad Arquata del Tronto, che è una realtà completamente diversa. Rifaresti quella scelta? Te ne andresti? Sì, devo dire che sono stati gli anni più difficili della mia vita, ma vivi. Non te ne andresti più adesso dalla montagna? Ma io viaggio volentieri, sono sicuramente una persona che ama più di una dimensione. Non me ne andrei più dalla magia di questo progetto, di questo sogno che stiamo condividendo sempre in più persone. Sta andando bene? Cioè sta andando come speravate quando avete fondato l'associazione Vector? Un po' meglio, nel senso che il riscontro e l'affetto nazionale ci ha sorpreso e ci ha riempito. anche nei momenti più difficili, perché il Covid per noi è stata veramente un'ennesima prova durissima. Abbiamo avuto da tutta Italia delle manifestazioni di amicizia e di vicinanza uniche. E la cosa che più volevo e si sta realizzando è la sensazione che i mezzi litri sia una casa per tutti e non una nostra attività con degli ospiti. E vedo che le persone la vivono così e saranno felicissime. Elena, se ti va, tra qualche mese ci risentiamo, ci racconti, magari insieme a Stefano, ci raccontate anche il progetto. Torniamo sull'argomento in prossimità delle vacanze, perché noi siamo sempre ottimisti, cerchiamo sempre di guardare al futuro con ottimismo. Prima o poi questa pandemia dovrà finire per tanti motivi e quindi speriamo di tornare a viaggiare, di tornare ad abbracciarci, a stringerci le mani e a parlare senza la paura, senza le mascherine, senza la paura che possiamo contagiarci. E quindi speriamo, dai, tra qualche mese di risentirci e di rifare uno spot per il vostro territorio. Ne ha bisogno, a parte che è bellissimo, ma poi perché ne avete bisogno? Tra il terremoto e il Covid dovete rialzarvi per forza perché le marche... Perché è giusto così, per le marche. Tutti lo dobbiamo le marche, in un certo senso, per quello che avete passato e state passando. Grazie Elena di essere stata con noi, veramente. Grazie a voi, grazie a voi. In bocca al lupo per tutto. Ci sentiamo presto. Sì, grazie mille. Buona giornata. Grazie, ciao Elena. Elena Pascolini, fondatrice dell'Associazione Montevector e Rifuggista e questa associazione fatta da un gruppo di persone che con il cuore, con tenacia, con capabilità stanno cercando di non far morire la montagna, di non far morire Arquata del Tronto che è un po' il simbolo del sisma del 2016. È un paese che non esiste più. 50 persone, anzi 51 per l'esattezza hanno perso la vita da un po' il simbolo di quel sisma del 2016. Questo gruppo di persone con tenacia sta cercando di far rivivere il territorio e di sostenere e sostentare i produttori locali. Noi ci fermiamo qualche istante, mattina con noi torna domani mattina, non cambiate canale perché dopo di noi la rubrica di mattina con noi mondo social. Grazie di averci seguito, buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti, ciao! Ciao! Sì, ciao! Sì, ciao!